Diventare fornitori della grande distribuzione organizzata statunitense è possibile anche per le aziende pugliesi, ma solo se si hanno le giuste competenze e i cosiddetti attrezzi del mestiere. Per questo, nell'ambito dell'International Business Week, in programma dal 30 settembre al 4 ottobre nella Fiera dell'Evante a Bari, è andato in scena un evento formativo che ha coinvolto imprenditori americani e pugliesi, soprattutto nel settore agroalimentare, dove il Made in Puglia ha sempre un forte appello all'estero. All'interno della International Business Week oggi ospitiamo un evento nel quale gli operatori della grande distribuzione organizzata degli Stati Uniti, che sono qui in una missione incoming durante la quale hanno visitato alcune aziende del comparto agroalimentare e stanno incontrando le aziende che si sono qualificate, oggi invece incontrano aziende che aspirano ad ottenere la qualificazione come fornitori presso la grande distribuzione organizzata degli Stati Uniti. Quindi è sostanzialmente quello di oggi un evento formativo che serve a consentire alle nostre imprese, che sono molto esperte, molto efficienti nell'ambito agroalimentare, a diventare anche idonee al mercato americano. L'obiettivo della regione Puglia è dunque quello di esportare sempre di più i prodotti pugliesi. Per farlo però, soprattutto oltre i confini europei, bisogna adattarsi alle nuove regole presenti, ad esempio negli States. Per questo, per gli imprenditori pugliesi, è fondamentale fare formazione per affacciarsi a nuovi mercati. L'obiettivo nostro come internazionalizzazione non è solo quello di attrarre investimenti nazionali, ma soprattutto di far crescere l'export e per far crescere l'export nel caso del struttore agroalimentare dobbiamo riuscire a fare massa critica, a costruire una sorta di paniere in cui noi sviluppiamo sempre di più un'offerta più strutturata, più grande, anche in considerazione che ad esempio l'incontro di oggi con la grande istituzione americana impone un determinato quantitativo di produzione. È chiaro che apre a nuovi scenari, scenari di tipologia mercologica, di confezionamento, nuove regole perché fare export del prodotto in un mercato differente impone regole assolutamente differenti e il senso di formarci per fare export va in questa direzione. Aggiungo che per far questo abbiamo voluto anche in tutti i nostri incentivi Minipia e Pia aggiungere la parte dell'internazionalizzazione, sia come partecipazione delle fiere all'estero ma anche e soprattutto con il riconoscimento dei costi dell'export manager che è questa fiducia che deve aiutare le imprese a fare più vendita fuori dal mercato locale. Tra i relatori vi era anche Patrick Capriati, nato e cresciuto in Puglia e ora marketing promotion manager a Chicago. Quest'ultimo ha sottolineato la grande opportunità data dalla presenza degli 11 buyer della GDO presenti in occasione della campionaria. Questi ultimi infatti producono da soli un fatturato di 21 miliardi grazie ai loro 864 grandi supermercati sparsi negli States. Questa missione vuole fare conoscere da vicino la realtà della Puglia di oggi che ha un ruolo molto importante nel settore agroalimentari e vini quindi siamo qui in Puglia, arrivati domenica, siamo qui in Puglia per una settimana e i nostri giorni di lavoro sono suddivisi fra incontri B2B che sono stati programmati fra i buyers della grande distribuzione e le aziende Pugliesi che hanno i requisiti necessari per lavorare con la GDO in termini di certificazioni, registrazioni, capacità produttive. si è creata una griglia di incontri, ci sono oltre 250 incontri che sono stati pianificati e quindi nell'ambito di questa settimana il produttore pugliesi avrà l'opportunità di confrontarsi faccia a faccia con i buyers della grande distribuzione americana che è molto difficile arrivare a dialogare con loro. I prodotti pugliesi agroalimentari hanno comunque una marcia in più nell'export statunitense perché possono contare su una caratteristica che li rende unici. Uno dei progetti più importanti dell'Istituto del Commercio Estero nell'ambito agroalimentare punta sul tema dell'autenticità, di extraordinary Italian taste e quindi i prodotti pugliesi sono già presenti sia agroalimentari a scaffale ma anche di vini gli Stati Uniti sono innamorati di tutto ciò che rappresenta l'Italia e di modo particolare anche del cibo, delle bevande che loro acquistano e consumano.